La letteratura ormai internazionale dice che se tutti rispettassero queste tre regole, mascherina, distanziamento di almeno un metro e igiene delle mani, perché sono l'unico veicolo di contatto tra persona e persona, si avrebbe un effetto migliore del lockdown. Quindi noi dobbiamo metterci l'impegno a difendere fino in fondo l'idea di questa similibertà che oggi abbiamo, che è una libertà mascherata, definiamola così. Oggi è l'ultimo di carnevale, è rovinata anche come libertà, non ci siamo neanche accorti che oggi è l'ultimo di carnevale. L'ultimo di carnevale e non accorgersene, ma questa libertà in maschera va difesa. Pensiere e parole di Luca Zaia che guarda i dati della pandemia in Veneto, favorevoli da 45 giorni e con i ricoveri in diminuzione. Il virus però continua a girare e l'allerta è sempre massima, anche perché le varianti possono far precipitare la situazione. Capite che se tornano le varianti abbiamo già capito quale sarà il livello del volo che faremo con tante turbolenze in volo. Intanto sul fronte scuola fino al 5 marzo le elezioni degli istituti superiori resteranno in presenza al 50%, con test a tappeto. Noi adesso vogliamo entrare nelle scuole come abbiamo da progetto, fatto in tempi non sospetti, per fare dei prezzi scolastici a tappeto in modo tale da misurare la circolazione del virus. Chiusura sui vaccini anti-covid che il Veneto chiede di poter fare in autonomia. E' evidente, questo penso sia corretto riconoscerlo, che qualora ci fosse confermata tutta la fornitura per 27 milioni di dosi divise in due blocchi, 12 milioni e 15 milioni rispetto a due intermediari diversi, differenti, distinti, una regione, un paese non può girarsi dall'altra parte. Guardate che l'unica via di uscita, lo dice il mondo scientifico, non è il pensiero di Zaia, è la vaccinazione. E io spero di riuscire a realizzare il Veneto covid free. E io spero di riuscire a realizzare il Veneto covid free.